Ciao ragazzi, benvenuti al 51esimo video tutorial oggi faremo un video tutorial di getto, molto molto veloce vedremo come si aggiorna Z-Extras all'interno di Zimbra che anche se ampiamente e dettagliatamente spiegato all'interno del sito del produttore è bene per noi inserirlo come video nel nostro canale youtube per completezza di informazione allora la prima cosa che vedremo è chiaramente quando e come dovremo essere avvisati della presenza di un aggiornamento andando chiaramente in questo modo come vedete Zimbra è il mio Zimbra non ho fatto altro che condividere la cartella di admin all'interno della mia utenza Nico e in questo caso, a parte il vedere tutte le mail che Zimbra identifica come spam e che forse da qui a breve faremo un ulteriore tutorial su come migliorare il rate del riconoscimento di Zimbra per quanto riguarda lo spam, ritornando a noi abbiamo subito che abbiamo un'informazione dove ci dice che è presente la versione di Zextras 1.8.8 mentre quella installata è la 1.8.7 quindi la prima cosa da fare è andare sul sito direttamente del produttore andiamo in Zextras che è www.zextras.com e non dobbiamo nient'altro che andare a cliccare su download now e andare a selezionare, tasto destro e copiare quanto ci dice di scaricare per quanto riguarda l'installazione ma viene usato anche per l'aggiornamento apriamo il nostro putty andiamo a inserire l'indirizzo IP del nostro server Zimbra con chiaramente le credenziali di autenticazione a questo punto non dovremmo nient'altro che andare io uso la cartella temporanea andare a fare tasto destro su quanto precedentemente copiato e aspettare che il file che generalmente è di piccole dimensioni stiamo parlando di 10-15 MB venga interamente scaricato subito dopo il download di questo file si dovrà procedere alla decompressione del TGZ e poi alla successiva installazione e abbiamo che Zextras è stato tranquillamente aggiornato con le nuove feature e chiaramente anche con le modifiche a quelle esistenti un altro po' di pazienza ho sbagliato non sono 15 MB erano i primi Zextras 15 MB adesso sono un pochino di più siamo arrivati a 30 MB qualcosina di più sta diventando sempre più corposo ok 35 MB andiamo a verificare la presenza di Zextras andiamo a decomprimerlo perfetto andiamo all'interno della cartella decompressa andiamo a vedere che cosa c'è all'interno non dobbiamo fare nient'altro che install questo punto ci chiederà cosa effettivamente installare io generalmente uso install e seguo l'applicazione install.sh all ok sta verificando la presenza di installazioni precedenti ha verificato la presenza di Zimbra 8.0.4 qualche altro minuto di pazienza ok si andiamo ad andiamo a cliccare nuovamente invio andiamo nuovamente a cliccare invio perché ci chiede di bloccare Zimbra Web Application finché non installa Zextras sta bloccando le mailbox adesso riattiva sta riavviando le mailbox e dovremmo avere finito se non sbaglio eccolo qua ci chiede di attendere 60 secondi per inizializzare Zimbra possiamo aspettare senza alcun problema ecco qua procediamo finalmente con l'installazione della Zimlet di Zextras il core vede che è già installato eccolo qua il gioco è fatto ora non ci resta che uscire entrare nella parte amministrativa di Zimbra va bene ok andiamo a inserire le credenziali amministrative e andiamo subito con curiosità estrema a vedere se l'aggiornamento è stato effettuato andiamo su Zextras Zextras la versione ultima è la 1.8.8 facciamo un ulteriore check update ma non dovrebbe essere disponibile alcuna versione migliorativa ci dice solo che possiamo aggiornare la Zimlet relativa alla chat che lo facciamo subito andiamo nella ZX chat vediamo se ci sono degli update ok andiamo a fare il deploy e via è tutto aggiornato adesso abbiamo la possibilità di utilizzare la versione nuova di Zextras quindi questo è tutto come vi avevo detto e vi avevo anticipato all'inizio il tutorial era molto veloce e di getto e vi saluto e vi auguro di rivedervi al prossimo video tutorial ciao a tutti grazie a tutti